E diciamo che al momento non ce l'ho un cattivo fisso. Alveggia l'anteprima di Lego Batman, il film che arriverà nelle sali italiane il 9 febbraio. Abbiamo intervistato le voci italiane del film, ovvero Claudio Santamaria che testa la voce a Batman, Alessandro Sperdusi che interpreta Robin e Jackie Gucciari che dà la voce a Batgirl. L'abbiamo giocato con loro sulle loro conoscenze dell'universo DC Comics e non solo. Guardate come è andata. Gli eroi faranno squadra. Cosa? Batman lavora da solo. Batman, fidati di noi, insieme ce la faremo. Voglio collaborare. Vedi il contatore? Sono tutte le buone idee che ha Batman e nessun altro ha mai avuto. Credo che ne aggiungerò una. Batman, perché hai costruito quest'affare con un solo sedile? Perché mi risulta che ho solo due chiappe. Lego Batman, il film. Pronti? Yes. Allora, visto che avete interpretato questi bellissimi personaggi, vogliamo fare un test della vostra conoscenza sull'universo DC Comics? Come dimostro di essere pronta o di non essere pronta? Va bene, fai dello. Chi ha interpretato il primo Batman sul grande schermo? Fra Ben Affleck, Val Kilmer e George Clooney. Ah, Val Kilmer. Io aderisco alla risposta di Cloud. Chi è la nemica del pipistrello di Gotham che è stata interpretata solo da Uma Thurman? Catwoman, Poison Ivy o Harley Quinn? Poison Ivy. E anche Michael Keaton che l'ha fatta prima. Sì, prima di... È un matino. Quale celebre personaggio ha detto questa frase in uno dei film di Batman? Dimmi una cosa amico mio. Danzi mai col diavolo nel pallido pleniluno. Danzi mai col diavolo... Lo dice Alessandro Spellman, Jack Nicholson. Sono già perdito in Barton. Sì. Infatti ce ne vedono tre per farne uno. Michael Keaton niente. Niente, non è uscito, non è arrivato. Chi è invece la prima attrice che ha interpretato Catwoman? Michelle Pfeiffer, Anna Hathaway o Halle Berry? Halle Berry. Michelle Pfeiffer. No, Michelle Pfeiffer. Io ho dubbi del testo di Halle Berry. Quella per altre cose. No, beh, Michelle Pfeiffer. Ultima domanda. Quando è stato pubblicato il primo fumetto di Batman negli Stati Uniti? 1930, 1940 o 1950? 40. Io direi 30. Io 40. Nel 50. Io dico 50. E 40. Allora si vede che al momento non ce l'ho un cattivo fisso. Diciamo che mi batto con tante persone diverse. Mi piace battermi in giro. Siete stati molto bravi. Tornando al film invece volevo chiedervi qual è la battuta che avete preferito di più doppiare del vostro personaggio. La mia sicuramente è quella col Joker quando si lascia in qualche modo. Quando mette le cose in chiaro, batta. E diciamo che al momento non ce l'ho un cattivo fisso. Oh mio Dio, 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 oh mio Dio. Batman. La mia la mia. Menγα su sia quella, quando finalmente riesce a trovare il nome da dare a Batman, e quindi lo chiama all'improvviso Papito. E lui dice, che cos'è Fabito? E dice, papà in spagnolo, mi dispiace E lui non vuole che lo chiami papà in tutti i modi Ma alla fine accetta finalmente Fabito E quindi sono felice Gottman, perché hai costruito quest'affare con un solo sedile? Perché mi risulta che ho solo due chiappe Non me la ricordo Cioè nel senso che mi ricordo il momento in cui la dice Ed è quando litiga con Batman e se ne va e lo lascia dentro una cella Qualcosa che ha a che fare sull'importanza del fare le cose insieme E della fiducia reciproca Non ti saprete qual è la battuta Ma so che è quello il momento in cui tra l'altro È la prima volta che Batman va veramente in crisi Perché si rende conto Che entrare in relazione con gli altri Vuol dire correre il rischio di deluderli Ed è la cosa che lo mette poi in crisi E lo fa in realtà migliorare E poi se no la vita non succede così facile Anche se lui sta sempre a casa Sempre con la maschera anche a casa Con la vestaglia Vuol dire Si toglie la maschera perché lo vediamo nella sua quotidianità Che non si è mai fatta vedere negli altri vini Sta solo Che mangia l'anagosta Si fa il bagno Col delfino gli passa sopra E si guarda Jerry Maguire da solo E non trova il canale C'è HDMI 2, 1 Che si mette l'anagosta nel forno a microonde E siccome ha la mano così Sbaglia il tempo Quindi mette 20 minuti Dice stupido Quella cosa lì Io la trovo geniale Cioè prendere un personaggio così Che è mitico Che è solitario Che è misterioso E come dire Togliergli la maschera Il mantello E svelarlo nella sua quotidianità È geniale Mi ringrazio Grazie a te